I lavori partiranno quanto prima, penso nel giro di 10-15 giorni. Stiamo aspettando che approvi la Convenzione e anche la provincia. Noi l'abbiamo approvata già nella giornata di ieri. Sono 200 mila euro che sono finanziati dal Comune di Fano e circa 50 mila euro finanziati dal Comune di Pesaro, ma non come finanziamento di soldi, ma come uso dei mezzi della provincia e come uso del personale della provincia stessa. Quindi in tutto spenderemo 250 mila euro. Anche se la provincia ha detto molto probabilmente ci vorrà un po' più di tempo e quindi un po' più di personale, un po' più di mezzi. Comunque diciamo che nel giro di brevissimo tempo sarà pronta anche finalmente questa pista ciclabile. Pista ciclabile che poi stiamo studiando dove e in che modo collegarla con la Fano-Pesaro, perché poi veramente sarebbe una vera pista ciclabile abbastanza lunga. Ricordiamo appunto adesso da dove parte di preciso e dove arriva? Parte sul ponte di Via Trave e arriverà proprio all'abitato di Fenile dove c'è il distributore di benzina. Sono circa due chilometri e mezzo.